Per foto incredibili usate la formula Kodak, pellicola e carta. Giri, piri, giri, girivi in Kodak. Kodak? Basta chiederlo. Bopopopolaretti, la faccenda è dai ghiacciaio, pure dolce per natura, aggiungiamo i succhi freschi della frutta più matura. Bopopopolaretti, cerca dei supermercati, anche lì li puoi trovare, dopo averli congelati sono buoni da gustare. Bopopopolaretti, polaretti dolfi, quelli veri, con sugo di frutta, pronti da congelare. Quando avevo voglia di uno snack spizioso, erano guai, fortuna che oggi c'è Spidipizza Findus. La prima pizza che va anche nel tostapane. Spidipizza Findus, amici in cinque minuti. Amici! E un bel applauso anche alla nuova Spidipizza Rustica. Rustica? Al prosciutto e formaggio. Prosciutto? E il formaggio? Come si dice, Spidipizza Margherita è la nuovissima Spidipizza Rustica. Amici? In cinque minuti. Da Fintus! 15 21 37 25 Così fresco e intenso, Vigorson può cambiare il gusto della tua vita. Eccoci arrivati. E questo è Kaori. Vieni nel giuppone per studiare. Parli italiano? Poco poco. Avrai fame? Poco poco. Pira del Pia. Philadelphia. Assaggia. Senti com'è cremoso. Buono, vero? Kaori, stai con me per sempre. No, poco poco. Ma sono solo queste parole. Philadelphia? Sì, tanto tanto. Kaori, sei unica. Pira del Pia unico. Philadelphia. Il gusto unico. Inimitabile. Craft. Cose buone dal mondo. Fame! Wow! Borghi! Ancora un goccio? L'ultimo tocco? No, no! Perfetto! Possiamo andare! E io... Arrivare! Mi è sembrato di vedere un Willy Denti. Ci vediamo da Borghi! Più gusto di Borghi. Nessuno, nessuno di da. Ecco il pollo, ragazzi. You got the style that makes me feel complete. I love you, baby. Can't you see? The crystal ball is turning out of the floor. There is a magic on the cookie, cookie, cookie. Hey! Hey! Toh! Grazie, ragazzi. Questo lo mettiamo nel forno e questo nel frigo. E gli odori non passano. Con cookie si può. Sì, cookie alluminio è doppia forza. Per conservare la freschezza, per proteggere i sapori. Cookie alluminio è doppia forza. Risparmi a chi lo usa. È prezzemolo gelato San Montana. Il suo bastoncino chissà dove volerà. È prezzemolo, è prezzemolo. Nessuno gli resisterà. Gentili signore, voi tutte conoscete l'impegno che Grana Rossa ha. Grana Rossa ha preso nei confronti dell'alta qualità. Voi sceltele numero uno. Noi vi scegliamo nei migliori allevamenti italiani e lì vi coccoliamo per produrre ogni giorno questo latte fresco e prezioso. E allora diciamolo alle famiglie italiane. Abbiamo scelto un grande campione. Un campione dell'alta qualità. Latte fresco alta qualità Grana Rossa. Tutto il sapore del latte appena munto. E poi c'era la marmotta che confezionava la cioccolata. Beh sì, certo. Milka, la più tenera tentazione. È croccante, cremoso e insieme tenero. È ciocco biscotto Milka. Un'altra sensazione di tenero cioccolato.